La pasticceria Delia dal 1972 propone ai suoi clienti la ricercatezza del gusto, unita alla cura del dettaglio, che fanno delle sue ricette artigianali un capriccio da concedersi. Torte nuziali monumentali, torte personalizzate, desservari, gelato artigianale, aluffei di prestigio, cioccolateria sortita, Disney cake. Il maestro Domenico Manfredi creerà il dolce giusto per te, adatto a qualunque regime alimentare, anche se sei diabetico o ciliaco. Pasticceria Delia, facciamo della bontà, un'arte. Pasticceria Delia di Domenico Manfredi, Via Processione, Prato Perillo, Teggiano, telefono 0975 73 170.